Io sono Giulian Pieri, sono direttore dell'albergo Castelbrando. Siamo in Corsica, un paese che si chiama Erba Longa, situato nella regione del Capo Corso. Prima questa era una casa nella regione che chiamano la casa dei americani. Sono case, gente della regione del Capo Corso, che sono andato in America di Sur per lavorare. E quando hanno fatto fortuna, sono voltati qua, in Corsica, hanno fatto case che hanno una cittatura coloniale. E questo è un esempio di queste case che si trovano solamente nel Capo Corso. Abbiamo 45 stanze. Abbiamo standard, superiori, le suite privilegi, che sono stanze bastante grandi, con un salone separato. Abbiamo due piscine riscaldate, con un jacuzzi. Un centro benessere, un spa, con i massaggi, il bagno tutto. Abbiamo un tennis a 200 metri. Erba Longa è un paese medievale. Con la torre genovese, le piccole strette, i ristoranti di pesce, di cucina gorsa. Abbiamo tutti i tipi di clienti, di coppie, famiglie. Dipende dalla stagione. Cottone è un paese medievale.